Grazie a tutti. Diverse altre perché il percorso l'itinerario è abbastanza lungo, articolato e complesso. Questa sera vedremo credo un passaggio splendido, fondamentale, oserei dire clou, nel senso che chi conosce già questo brano lo riascolterà con commozione e volentieri. Chi non l'ha mai sentito è invitato a stare ben saldo sulla sedia perché è qualcosa di sconvolgente. Quindi sentiremo Adamo in persona intervenire e parlare e vedremo anche ringraziare Luisa per aver fatto rivivere, da pura creatura segnata dalla colpa d'origine, ciò che purtroppo il suo peccato originale aveva fatto tragicamente morire. Quindi insomma stasera prende la parola il testimone, il diretto interessato. Io trovarmi sinceramente dinanzi ad uno scritto in cui va a parlare Adamo in persona mi ha lasciato abbastanza di sasso. Non mi immaginavo di arrivare a tanto. Adamo è il nostro progenitore, sapete che molta gente oggi si pensa, e qui sarebbe molto interessante anche fare uno screening, che Adamo sia una figura inesistente, mitologica, con tutte le evoluzioni, gli impicci, gli imbrogli, le varie lusi, gli australopitechi. C'è molta gente che non ci crede, ma Adamo è un essere personale, è un essere che è esistito. Lui ed Eva, io lo capisco che la cosiddetta scienza avanza una serie di obiezioni e che a volte tende anche un po' a ridicolizzare la rivelazione e il concetto stesso di creazione. Però, adesso qui sarebbe da avere un ampio capitolo, noi non possiamo fare come se non ci fossero i dati rivelati. Quindi, come disse già Pio XII negli anni 40-50, sono ricordo, nella sua dichiarazione di condanna del cosiddetto poligenismo, cioè, quello che ci insegna nei primi capitoli del libro della Genesi è che la creazione dell'uomo è stato un atto divino, la creazione della donna è stato un atto divino, ma che la donna è stata realmente in qualche modo tratta dall'uomo e che questi due progenitori sono all'origine della storia dell'umanità, che hanno commesso realmente un peccato originale, come si chiama, che poi dà luogo al peccato originale, originato, che è quello che ci portiamo dietro, che ha fatto decadare la razza umana. Cioè, senza credere a questo, possiamo tranquillamente cambiare religione, d'accordo? Non è che possiamo cambiare religione, abbiamo già cambiato religione, d'accordo? Perché anche tutto quanto all'opera di redenzione compiuta dal Signore non ha ragione di esistere, d'accordo? Quindi, bisogna fare attenzione che questo non è un punto che possiamo, come dire, bypassare in questo modo sciolto e disinvolto. Dice, ma sì, ma sarà una leggenda, sarà un mito, sarà una favoletta. Sì, certamente che dice qualcosa di vero, non possiamo dire questo. Ecco, anche perché questa sera sentiremo la parte in causa parlare, insomma, no? Ma so, vedete, io ogni tanto, quando sentivo, dai tempi in cui ero studente, se ne sento di tutti i colori in giro, no? C'erano delle mode, grazie a Dio, di una parte, insomma, della esegesi, si cominciavano a dire, Mosè non è esistito, Adamo non è esistito, Abramo non è esistito, Giona non è esistito, eccetera, eccetera, no? Isaia, uh, il profilo di Isaia, il primo di Isaia, il secondo di Isaia, cioè tutte quante queste analisi razionalistiche, no? Entrate, purtroppo, anche per delle sorte di complessi di strana inferiorità, insomma, anche dentro la capoccia di alcuni esegeti, insomma, che si sentivano complessi di inferiorità. Io dicevo sempre scherzando, dico, ma dico, immagini quando questi morono? Questi morono e alle porte dell'altro mondo ci stanno in fila. Ad Amos, molto lieto, vedi che io sono esistito, ciao, come stai, tutto bene? Ecco, io invece sono Mosè, ecco, io invece sono Abramo, io invece sono Isaia, d'accordo? Chi lo sa, insomma, noi non possiamo prescindere, quando Gesù dice nel Vangelo che come Giona stette tre giorni e tre notti nel vento della balena, così il figlio dell'uomo, oppure come Giona fu un segno per quelli di Ninive, noi non possiamo dire, no, ma Giona non è esistito. Il libretto di Giona è un libretto mitologico, parenetico, dove viene raccontata una favoletta per far comprendere alcune cose. Dico, ma, dico, scusa, ma il nostro Signore lo cita Giona? No? Lo cita come un fatto reale? Eh no, ma lui era figlio del suo tempo, quindi a quel tempo tutti quanti pensavano che Giona fosse esistito, e quindi lo pensava anche lui. Oppure qualcun altro un po' meno irriverente, cioè tra l'altro Gesù come se fosse un uomo qualunque, no? Qualcun altro non è irriverente e dice no, non è che pensava che fosse esistito, però non ha detto niente per non scandalizzare, siccome tutti pensavano che fosse esistito, non ha detto niente per scandalizzare i presenti, insomma, no? Quindi è stato al gioco per non scandalizzare i presenti. Dico, ma, io veramente sentivo queste cose e dico, ma, vabbè, insomma, ma nel cuore, insomma, non ho mai, non mi hanno mai molto molto convinto queste cose, e non mi convincono tuttora, quindi, come restando il rispetto per chi la pensa diversamente, insomma, queste sono cose in parte opinabili, insomma, quindi. Comunque, allora, oggi ci metteremo in ascolto, senza troppo tergiversare, del volume 20, bellissimo il volume 20, 26 ottobre 1926. Lo ce lo leggiamo, ce lo gustiamo, e poi cercheremo di dirci qualche parola di commento. Io, se la grazia del Signore mi aiuta, vorrei dedicare questa intera puntata solo a questo brano, e anche dilungandosi un po', perché è veramente, a mio avviso, una perla, uno snodo fondamentale, proprio di questo ciclo di catechesi. Cominciamo la lettura. Dopo ciò stavo incominciando il mio giro nella Divina Volontà, e portandomi nell'Eden terrestre, dove Adamo aveva fatto il primo atto di sostrazione alla sua volontà, della sua, scusate, volontà alla Divina, dicevo al mio dolce Gesù, Amore mio, voglio annientare il mio volere nel tuo, affinché mai abbia vita, per fare che in tutto e per sempre abbia vita il tuo, per riparare il primo atto che fece Adamo, per ridare tutta quella gloria al tuo supremo volere, come se Adamo non si fosse sottratto da esso. Poi torneremo su queste espressioni. Solo su queste ci potremo stare fino a mezzanotte. O come vorrei dargli l'onore da lui perduto, perché fece la sua volontà e respinse la tua. E questo atto intendo farlo per quante volte tutte le creature hanno fatto la loro volontà causa di tutti, attenzione, di tutti i loro mali, tutti, e hanno respinto la tua. Principio e fonte di tutti, ripeto, tutti i beni. Perciò ti prego che venga presto il regno del Fiat Supremo, affinché tutti, da Adamo fino a tutte le creature che hanno fatto la loro volontà, ricevano l'onore, la gloria perduta, e il tuo volere riceve il trionfo, la gloria e il suo compimento. E adesso, audite, audite. Ora, mentre ciò dicevo, il mio sommo bene si è tutto commosso, Gesù, ed interne dito. E facendomi presente il mio primo padre Adamo mi ha fatto dire da lui con un'enfasi d'amore tutta speciale. Attenzione, eh? Un momento è solenne. Figlia Benedetta, finalmente il mio Signore e il Dio, dopo tanti secoli, ha fatto uscire alla luce del giorno colei che doveva pensare a ridarmi l'onore, la gloria che io perdetti col fare sventuratamente la mia volontà. Come mi sento raddoppiata la mia felicità. Finora nessuno ci ha pensato a ridarmi questo onore che perdetti. perciò ringrazio vivamente il Dio che ti ha fatto uscire alla luce e ringrazio a te come figlia a me più cara che hai preso l'impegno di ridare a Dio la gloria come se mai la sua volontà fosse stata da me offesa e a me il grande onore che il regno del Fiat Supremo fosse ristabilito in mezzo alle umane generazioni. È giusto che ti ceda il posto che a me toccava come prima creatura uscita dalle mani del nostro creatore. Cioè qui ragazzi stiamo veramente tanta roba, eh? Dopo ciò il mio amabile Gesù stringendomi a sé mi ha detto figlia mia non solo Adamo ma tutto il cielo aspetta i tuoi atti nel mio volere affinché tutti ricevano l'onore che ha tolto il loro umano volere. Tu devi sapere che ho ammesso più grazia in te e che non misi in Adamo per fare che il mio volere ti possedesse e con trionfo ti dominasse e che il tuo si sentisse onorato di mai avere vita e cedesse il posto alla mia volontà. In lui non misi la mia umanità come aiuto fortezza sua e corteggio della mia volontà perché non l'avevo allora. In te l'ho ammessa per somministrarti tutti gli aiuti che ci vogliono per fare che la tua fosse al suo posto e la mia potesse regnare e insieme con te seguire i tuoi giri nel mio eterno volere per stabilire il suo regno. Io nel sentire ciò come sorpresa ho detto mio Gesù ma che dici? Mi sembra che vuoi tentarmi e farmi una burla. Possibile che tu abbia messo più grazia in me che in Adamo? e Gesù è certo certo figlia mia dovevo fare in modo che la tua volontà fosse sostenuta da un'altra umanità divina per fare che non traballasse e stesse ferma nella mia volontà perciò non ti burlo ma te lo dico affinché tu mi corrispondi e stia attento. Sarebbe da fare il minuto di silenzio per come dire per mettersi un po' in camera iperbarica e smaltire insomma l'emozione anche che si prova io almeno un po' la provo insomma dinanzi a queste cose no? Adesso andiamo un attimo a ripercorrere questo brano che c'è che è veramente qualche cosa di fantasma ecologico facciamo prima un volo di Gabbiano che riprendiamo le file no? Allora il contesto Luisa sta facendo un giro nella divina volontà portandosi nel paradiso terrestre chi recita il pio pellegrinaggio io consiglio vivamente dell'anima nella divina volontà saprà che questa è una delle prime ore le ore della passione sono importantissime sono un po' impegnative il pio pellegrinaggio della divina volontà è molto meno impegnativo perché le ore sono molto breve però il pio pellegrinaggio nelle opere della divina volontà ci permette ogni giorno di fare un bel giro fatto bene però perché è fatto veramente sono bellissime le ore del pio pellegrinaggio dell'anima della divina volontà io lo straraccomando anche perché qui si vede anche l'importanza straordinaria di questi atti non so se avete notato il termine che ricorre ridare l'onore ad Adamo e a tutte le creature che non hanno fatto la divina volontà chi non ha fatto la divina volontà è disonorato è disonorato cioè un miserabile cioè una persona non degna di onore è caduto è decaduto si è imbarbarito ha perso la nobiltà che aveva è così girare cioè i giri che noi facciamo come sappiamo non fanno crescere soltanto noi ma producono degli effetti Gesù dice nel cielo stesso stanno aspettando questi due atti questo dobbiamo ricordarlo sapete che come in tutte le spiritualità come in tutti i percorsi ascetici anche nella vita della divina volontà questo che la meditazione è così importante perché sono tanti fronti su cui dobbiamo imparare a muoverci e adesso ne vedremo alcuni commentando all'inizio però questo aspetto dei giri è fondamentalissimo è importantissimo per gli effetti che produce non soltanto in chi lo fa producendo una grande unione con la divina volontà ma anche nei confronti di tutti i membri della razza umana cioè qui Adamo la dice grossa cioè io ho aspettato secoli che ci fosse qualcuno che ci pensasse cioè lei ci ha messo quest'intenzione capite ora non vorrei vorrei fare un discorso un pochino ordinato perché sono tante le cose insomma che sono da dire però nessuno ci ha mai pensato questo Luisa se l'ha inventato lei capite anche cioè la vita nella divina volontà presenta anche una grandissima creatività io dico sempre si prendi il pio pellegrinaggio nella divina volontà così impari lo stile con cui cioè il metodo anche con cui si fa un giro nel fiat creante o in Adamo o nella Santissima Umanità di Cristo o nei sacramenti della Chiesa o negli atti della vita pubblica di Gesù d'accordo va bene ma parlo di personalizzare cioè Dio aspetta questa è una cosa bellissima della vita nella divina volontà aspetta il tuo giro aspetta la tua che te vai a inventare cioè non è superbia questa qui cioè qui Luisa ha fatto una cosa che non ne ha mai fatto nessuno ci ha mai pensato nessuno noi possiamo dire che abbiamo fatto a Gesù a Maria a Madonna insomma a qualcuno una cosa che non ci ha mai pensato nessuno è la nostra preghiera personale o che forse dico questa è te una cosa talmente particolare insomma che è nata talmente da un da un mio sbocco momentaneo di amore o da un'ispirazione che ho secondato chi lo sa vuoi essere pure che questo non l'ha mai fatto nessuno cioè questo non come una forma di superbia di dire ma ah perché io sono un grande uomo di preghiera io sono un grande mistico no cioè ma come valorizzazione della individualità personale allora voi sapete che la corretta visione cristiano-cattolica diciamo così anche della persona umana e del suo vivere in comunità a chiesa tessere relazioni cioè sono importanti tutte e due le cose cioè è importante che non ci si chiude in un bieco individualismo cioè che ci si cautoconcepisca come una sorta di isola separata da tutti da tutte che cammina per conto proprio questa è una cosa brutta questa qui ma attenzione davanti a Dio è grande il valore dell'individualità cioè c'era anche la meditazione fatta ieri mattina credo non mi ricordo insomma tu sei un unicum la tua preghiera se tu impari a aprire il cuore a farlo uscire fuori è la tua Gesù vuole sentire le cose tue vuole che anche da te ci sia qualche cosa che non gli ha mai detto nessuno d'accordo tu devi dire a Gesù qualcosa che non gli ha mai detto nessuno o alla Madonna d'accordo nessuno o metterci la tua personalità metterci il tuo cuore metterci il tuo temperamento metterci veramente la tua personalità io spero che il Signore vi conceda a tutti quanti i miei figlioli insomma amici persone che in qualche modo sono interessate a condividere questi momenti chiamiamole queste pubbliche condivisioni meditazioni ad alta voce quindi non mi sento assolutamente nel ruolo di maestro o di professore però io sarei tanto contento ecco se si facesse proprio questa esperienza personale bellissima dello stare a tu per tu tu proprio tu con Gesù nella coscienza che lui ti sta ascoltando veramente cioè attenta alla tua preghiera attenta ai palpiti del tuo cuore attenta ai tuoi desideri attenta ai tuoi affetti attenta alle tue esternazioni capito? qui in queste prime cose c'è proprio il cuore di di questa anima santa che era Luisa Piccarreta no? stavo incominciando il giro nella divina volontà e portandomi nell'Eden terrestre dove Adamo aveva fatto il primo atto di sottrazione della sua volontà divina diceva il mio dolce Gesù ecco per esempio lo chiama amore mio cioè per Luisa era Gesù è amore mio capito? non è una cosa artificiale capito? affettata artificiosa costruita ostentata addirittura no Gesù è amore mio basta e lo chiamava abitualmente così non è Gesù non è Signore amore mio e che la prima cosa che gli dice voglio annientare il mio volere nel tuo affinché mai abbia vita torneremo subito adesso su questa espressione questo è proprio basta questo per vivere nella divina volontà per fare che in tutto e per sempre abbia vita il tuo primo motivo ma anche secondo motivo per riparare il primo atto che fece Adamo per ridare tutta quella gloria al tuo supremo volere come se Adamo non si fosse mai sottratto da esso e prosegue o come vorrei ridargli l'onore da lui perduto perché fece la sua volontà e respinse la tua pausa pausa quanto tempo è passato mamma mia stiamo già abbastanza avanti allora voglio annientare il mio volere nel tuo oh figlioli miei cari dicevo dondolino queste non sono belle parole non sono chiacchiere questa è la quintessenza della vita nella divina volontà cioè chi vuole vivere nella divina volontà deve imparare continuamente nel piccolo come nel grande ad annientare il proprio volere in quello di Dio cosa significa tutte le volte che tu sei posto in condizione di non volere d'accordo quindi di affidarti ma fossero pure adesso gli esempi più cretini proprio capite più cretini fate come veramente no fallo meno come dire eserciti la tua volontà come espressione di tuoi desideri di tuoi pensieri di tuoi convinzioni meglio cominciamo con gli esempi ma qui con gli esempi potremmo veramente farci l'alba d'accordo piccole come grandi cose per esempio uno sta facendo una conversazione una riunione non dice la sua gli uomini generalmente non soltanto che dicono la propria ma dicono la propria la difendono la impongono e tu non dici niente ma no bisogna ovviamente non si tratti di cose di vita o di morte quindi di questioni di fede di morale di fede divina e cattolica non la dici la tua non la dici non la dici stai in un gruppo che ne so esci esci con gli amici che facciamo stasera lascia sempre decida gli altri tu adeguati si fa come questo questo sono atti di vita pensate in un matrimonio se marito e moglie facessero a gara a fare la volontà dell'altro sarebbero matrimoni meravigliosi no? meravigliosi cioè se qualche volta litigano litigano perché io voglio che si faccia la tua volontà e tu vuoi che si fa la mia volontà dobbiamo metterci d'accordo perché qualche volta pensate che non dobbiamo pensare alle cose molto molto campate per l'aria no? date un'occhiatina all'encilica sulla santità alla gaudete ed exultate che ha scritto recentemente il Papa noi molte volte pensiamo alla santità in termini chi lo sa che cosa bisogna succedere ma per carità capito cioè i modi per annientare la nostra volontà e far vivere solo quella divina sono infiniti tantissimi tantissimi cioè chiedersi nelle piccole cose cioè ascoltando il proprio cuore in tutto la compro questa cosa o non la compro ma cominciamo a fare le cose è volontà di Dio che compri questa cosa oppure no cioè io non è che capite cioè se uno vuole fare le cose fatte seriamente io tante volte sento divina volontà divina volontà divina volontà è volontà divina che io compri questa cosa oppure no ma come compri questo paio di scarpe nuove sì o no che pensiamo ce lo chiediamo è volontà divina che io mi metta questa cosa addosso che mi veste in questo modo che usi questo cosmetico che le donne cominciano a eh cioè sto facendo esempi proprio eh sì o no pensate per esempio gli istituti religiosi no che campano di di provvidenza quelli mica a pranzo e a cena fanno le ordinazioni come i ristoranti quelli mangiano quello che la provvidenza gli mette davanti anche qui non è un annientamento della della propria volontà no c'è una cosa che mi andrebbe tanto di fare non la faccio per amore di Dio cioè voglio annientare il mio volere nel tuo questa è una frase da pensate a quante occasioni che ci stanno usciamo ci abbiamo il codice della strada che a volte insomma è pesante che facciamo le leggi dello Stato quelle che si possono osservare ovviamente non possiamo osservare le leggi inique no ecco quindi non è che siccome l'aborto è lescito se io faccio il medico possa abortire questo no però le leggi normali anche quelle che ti complicano la vita osservarle è un atto di rinnegamento della mia volontà perché io di fatto faccio la volontà che mi impone di fare la norma no è stato un sacerdote pensate a me capito quando uno celebra la messa osserva tutte le norme liturgiche fa le cose come devono essere fatte non fa le cose di capoccia sua cioè capite cioè annientare la propria volontà che è proprio quello che dice Gesù che vuol dire dietro di me rinneghi se stesso rinneghi se stesso dire rinnega rinnega te stesso oppure annienta la tua volontà la stessa cosa rinnegare te stesso vuol dire che non dai soddisfazione a te stesso non dai vita a te stesso non dai vita a quello che tu vuoi capite sentivo poco prima di iniziare la trasmissione che stavo sentendo il telegiornale mentre che c'era una canzone tormentone di quest'estate non so neanche cosa sia che però che ho sentito ora io faccio quello che voglio dico accipicchia questo ora mettiamo come sigla d'ingresso alla trasmissione sulla divina volontà dico che siamo matti io faccio quello che voglio per carità insomma no io ce ne scampi e liberi perché qui ci sono due possibilità o vivere la nostra volontà umana o vivere la volontà divina queste non vanno d'accordo questi stanno così stanno cioè il peccato di Adamo fu una cosa molto molto concreta a prescindere dalla sua ricostruzione possibile storica io ho fatto diverse catechesi su questo punto riportando una opinione teologica insomma che ha come dire illustri banditori a suo sostegno no ma rimane comunque un'opinione teologica perché non c'è niente come dire di definito ufficialmente dal magistrato della chiesa in ordine al contenuto del peccato originale in ordine al fatto è una verità di fede assoluta non impugnabile non bypassabile però di fatto Adamo ha scelto di fare la propria volontà faccio come dico faccio come dico io faccio le testa mia e per questo numero uno ha tolto la gloria a Dio all'involere perché dare gloria a Dio cosa significa? dare gloria a Dio significa c'è ragione tu faccio quello che vuoi tu cioè perché fare la volontà di qualcuno altro vuol dire riconoscere in quel qualcun altro una superiorità non una grandezza perché ci costa così tanto obbedire perché per obbedire bisogna stare sottomessi se tu obbedisci chi ti comanda è più grande di te se tu disobbedisci a Dio gli neghi soggettivamente la gloria che oggettivamente Dio ha cioè non è che se tu non lo riconosci come Dio Dio smette di essere Dio Dio lo è lo stesso ma tu però non glielo riconosci quindi smette di essere Dio nel tuo cuore e questa è cosa molto molto grave perché siccome quello Dio ci è dovrebbe essere tale e per il tuo bene non per il suo anche nel tuo cuore e se così non è tu gli togli la gloria che gli è dovuta da un punto di vista certamente soggettivo non è che Dio perde la sua gloria e cadi nel disonore perché l'uomo intriso di divina volontà è un piccolo Dio quindi non deve certamente essere adorato attenzione qui a queste cose ma può e deve essere onorato perché perché ha un'eccellenza oggettiva dovuta alla presenza della divina volontà in se stesso e se questo lo perde perde l'onore fare la propria volontà e respingere quella divina vuol dire perdere l'onore ora in questo atto d'accordo quindi vedete come come si fa il giro cioè si entra attraverso l'atto unico del Fiat Supremo che quindi vola attraverso tutto quanto il tempo annullando le barriere di spazio di tempo quindi io mi metto qui dentro con l'intenzione di fare il contrario di quello che ha fatto Adamo perché devo ripararlo quindi annientando il mio volere nel tuo affinché non abbia vita è questo sia per riparare il primo atto che fece Adamo sia per ridarti tutta quanta la gloria che ti è stata tolta dalla sottrazione di Adamo ad essa e sia per restituire ad Adamo l'onore perduto quindi questa è la triplice intenzione che Luisa ci mette non basta va oltre non gli basta Adamo ma aggiunge questo atto intendo farlo per quante volte tutte le creature hanno fatto la loro volontà attenzione causa di tutti i loro mali e hanno respinto la tua principio e fonte di tutti i beni allora attenzione adesso oltre accogliere quest'altro aspetto quindi vedete gli atti riparatori quanti sono riparo l'atto di Adamo ti ridò la gloria al supremo volere che ti è stata sottratta restituisco l'onore ad Adamo e al tempo stesso intendo rifare queste cose questi stessi atti di annientamento di innanzi al tuo volere per riparare tutte le volte che le creature hanno fatto la loro volontà provocando tutti i mali spingendo la tua che è la causa di tutti i beni adesso qui attenzione tutte le creature hanno fatto la loro volontà causa di tutti mentre legge ho detto tutti i loro mali tutti tutti tu pensi tutte quante le cose brutte che ti sono successe nella vita tutte dal raffreddore fino alle esperienze più drammatiche tutte tutte sai qual è la causa di tutti quanti questi mali la tua umana volontà solo questo noi ci crediamo veramente a questo cioè ci viene quel santo terrore di dire a Gesù senti io non so buono per ora a fare questo annientamento perpetuo in tutto della mia volontà non ce la faccio però ti posso dire sinceramente io ho paura di fare la mia volontà perché non ho nessun dubbio che se la faccio so guai quindi per favore dammi una mano aiutami sostienimi mettici me inventate qualcosa ma salvami da me stesso questa è la preghiera una delle forme di preghiera più alte e più vere perché i guai ne combiniamo a retrocarica hanno fatto la loro volontà a causa di tutti i loro mani e hanno respinto la tua principio e fonte di tutti i beni come reagiamo per esempio alle notizie che accadono anche alle notizie avverse io sono abbastanza abituato no? io vorrei invitare sicuramente qualcuno storcerà la bocca vorrei invitare seriamente seriamente a riflettere su come il Papa ha reagito recentemente a quello che gli è successo sia a caldo sia a freddo con le parole che ha detto ieri durante l'omelia silenzio e preghiera mi prendo un'umiliazione mi prendo la detrazione quindi le cose brutte e se fossero calunnie non voglio entrare nel merito chiaramente non voglio neanche pensarle a certe cose però prova a entrare nel cuore di un uomo che si trova in quella posizione che si sente dire quelle cose tu come avresti reagito? pensare proviamo a pensare in una situazione del genere come reagirebbe l'umana volontà e come reagirebbe la divina volontà cosa farebbe Gesù al posto di Papa Francesco? cosa farebbe la Madonna al posto di Papa Francesco? con quello che è successo? sono domande che lascio senza risposta cioè noi se vogliamo non fare le chiacchiere d'accordo? perché fare le chiacchiere siamo buoni tutti quanti voglio fare la divina volontà è una cosa semplicissima cosa farebbero Gesù e Maria in questa situazione? per essere devoti alla Madonna non basta portare il rosario in mano io lo porto il rosario in mano d'accordo? quello piccolino con un gesto di amore personale che faccio da tanto tempo mi sento cioè mi sentirei spogliato ma non è che con questo tu sei devoto alla Madonna io sono devoto alla Madonna se sempre più frequentemente sono capace di chiedermi bene in questa situazione la Madonna cosa farebbe? e questo come lo si ottiene? ci succede io ci devo pensare alla vita della Madonna noi dobbiamo pensare alla vita di Gesù alle reazioni di Gesù ma come reagito Gesù dinanzi alle calunnie dinanzi alle partacce e alle persecuzioni? che cosa ha fatto? non è stato in silenzio non ha detto amate i vostri temici pregate per i vostri persecutori l'ha detto lui o no? l'ha detto lui o no? e questo vale per tutti e il Papa è il primo che lo deve mettere in pratica perché deve dare l'esempio è il Vicaro di Cristo in terra e tu ti tieni addosso quel macigno di accuse con tutti che potrebbero pensare maledese senza reagire? qual è il problema? cosa pensavano di Gesù Cristo e i suoi contemporanei? cosa pensavano? cioè capite che significa annientare la propria volontà affinché mai abbia vita e faccio quella di un altro non ci sono eccezioni Gesù ha detto amate i vostri nemici pregate per i vostri persecutori Gesù dinanzi a Pilato non ha aperto bocca come pecora muta dinanzi ai suoi tosatori non aprì la sua bocca dinanzi a Erode non ha aperto bocca una sola volta ha aperto bocca quando era meglio che la teneva chiusa umanamente parlando quando Caefa gli ha chiesto tu sei il figlio di Dio? se mi chiedi la verità io lo sono dopodiché ricomincia il silenzio e basta noi non possiamo non pensare a queste cose non possiamo non pensare a queste cose cioè io sono molto scettico perché adesso anche su grazie a Dio la divina volontà comincia a diffondersi un po' se ne parlo ci sono gruppi ci sono persone ma attenzione però una cosa fondamentale io questo l'ho sempre detto e continuo a ripetere la divina volontà come dire ti come dire ti innesta ti radica ti situa rigorosissimamente dentro la chiesa cattolica e con uno stile ben preciso d'accordo? ben preciso per un motivo molto semplice perché Dio l'ha fatta a lui la chiesa cattolica l'ha creata a lui l'ha fondata a lui come una santa cattolica e apostolica punto finito quindi io non voglio neanche sentire parlare una persona di divina volontà se comincia a sclerare o a fare discorsi strani d'accordo? o a fare il castigamatti secondo me tu stai fuori della divina volontà punto quindi che poi tu che il signore ti rispetti che sia entro certi aspetti anche lecito possibile mantenendo certe forme posso anche accettarlo ma stai tranquillo che non stai dentro della divina volontà assolutamente secondo me per quanto mi riguarda assolutamente cioè la divina volontà dice Gesù è la dottrina più pura più santa che possa mai essere esistita che ti porta ad un tasso di santità superiore alla media quando è vissuta realmente non inferiore alla media superiore e noi abbiamo gli esempi di come hanno vissuto i grandi santi anche in situazioni complicatissime come hanno subito a volte delle delle ingiustizie grosse anche da parte di uomini di chiesa senza aprire bocca e c'è una ragione capito hanno visto anche degli scandali grossi quanto una casa ah oh hanno visti e hanno semplicemente pregato sopportato dice bene io prego per questi membri della Gere che fanno queste cose e io seguo il Vangelo senza giudicare nessuno pregando e seguo il Vangelo basta non c'è altro da fare allora questo sia chiaro questo qui d'accordo cioè noi non possiamo pensare di stare dentro la la divina volontà semplicemente perché uno fa un atto preventivo anche perché fa il giro perché non lo so legge più per l'eginaggio della divina volontà o fa l'ora della passione d'accordo o magari fa qualche atto attuale si ricorda di dire di una divina volontà nel mio parlare nel mio mangiare o cose di questo genere qui certamente queste sono cose essenziali importanti d'accordo però c'è uno stile c'è un modus cioè capite cioè l'anima che vive la divina volontà sta in un sta in una dinamica continua d'accordo costante in ricerca cioè in atto di continuo adeguamento per quanto riesce a conoscerla nel momento presente alla divina volontà nel poco come magari anche nella più sciocco anche nel più sciocco imprevisto della giornata anche nel minimo incidente nella minima cosa a questo tende la vita nella divina volontà questo dice voglio annientare il mio volere nel tuo affinché mai abbia vita cioè noi abbiamo l'emblema della vita nella divina volontà che è la madonna la madonna io voglio inteso come espressione di una volontà propria non sa neanche cosa significhi capito perché ha passato la vita a conformare uniformare sottomettere il suo volere a quello di Dio sempre e certe bombe gli sono arrivate alla madonna insomma non indifferenti bombe grosse capite il giorno il giorno che gli è arrivata il bel sogno che ha fatto San Giuseppe quando si è sognato che l'angelo ha detto che dovete scappare cioè guardate che la madonna non sapeva questa cosa qua la mattina si sveglia e San Giuseppe dice dobbiamo fare i pagati subito che vogliono ammazzare Gesù cioè capite cioè come ha reagito allora passiamo andare a vedere quindi ci sia ben chiaro dentro la testa e questo ne dobbiamo chiedercelo se ci crediamo credo io che la mia volontà la mia è la causa di tutti i mali quindi che se mi venisse un santo terrore di fare quello che dico io sarebbe un grandissimo traguardo e invece la divina volontà è il principio della fonte di tutti quindi pensiamo i nostri progetti sul presente o sul futuro io faccio esempio mio io sono sto qui a sermonita io sto qui a sermonita perché il vescovo mi ha mandato dice ma dove vorresti andare che vuoi cambiare parrocchio no non voglio fare niente non voglio fare sto qui in altri 50 anni benissimo domani il vescovo mi ha esposto benissimo mi rinchiudono in monastero magari d'accordo capito cioè noi dobbiamo essere sempre pronti vi ricordate una cosa molto bella no vuoi sapere una volta disse Gesù a Luisa ma non era Gesù era qualche santo mi sa che gli era apparsa a Luisa adesso non non mi ricordo dice ma io come faccio a sapere se sto nella divina volontà se sto a fare la mia se sto a fare la sua facilissimo tu devi chiederti io adesso sto facendo questo se Dio mi dicesse di fare altro sarei pronto a lasciare tutto questo e farlo subito altro sì o no senza starci troppo a pensare perché se ci pensi troppo già brutto segno se è sì tranquillo se è no preoccupati attenzione qualunque cosa sta parlando di qualunque cosa al senso no tutto meno che questo no qualunque cosa qualunque 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 poi qui c'è il discorsetto di Adamo dobbiamo andare verso la conclusione che commovente finalmente il mio signore dopo tanti secoli ha fatto uscire la luce del giorno con lei che doveva che doveva pensare non ci aveva mai pensato nessuno toporaccio di Adamo che stava lì cioè mortificato e tanti certo che dopo è andato in paradiso Adamo stava in paradiso qui perché dopo la retenzione Adamo ha fatto solo quello di 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 peccato soltanto il peccato originale e quindi ecco vedo una persona su facebook grazie che San Francesco di Paola era San Francesco di Paola che ha detto questa cosa a Luisa era proprio San Francesco di Paola adesso non mi veniva in mente quella cosa che se tu sei pronto a fare altro stai tranquilla che stai nella divina volontà grazie quindi e non ci aveva pensato mai nessuno sto toporaccio stava mortificato cioè tra le tante cose cioè c'è problema entrare dentro il cuore di sto toporaccio Adamo ma pensate che c'è ma andate vai a nasconde che pensa è una stupidaggine che ha fatto ha mandato a mamma loro la razza umana ha fatto succedere la fine del mondo c'è uno guardate la proprio la carità sopraffina di Luisa Luisa ci ha pensato ma sto toporaccio come sta con sto macigno che si porta dietro da da millenni ha perso il dono della divina volontà per sé e per tutti migliaia miliardi di persone ci ha pensato cioè pensare è importante ecco per questo pensiamoci siamo capaci di far rimanere a bocca aperta a nostro signore ma che stai a dire tu stasera sei fatto un goccetto non ho bevuto ma con goccio di vino noi dobbiamo pensarci abbiamo tutta quanta la passione ha voglia a fare pensieri graditi al nostro signore sforzate un po' abbiamo tutta quanta la vita della madonna se uno insomma si industria un pochino con quello che c'è da consegnare vangeli la tradizione le corone dei sette dolori insomma uno si fa un pochino una sintesi ha voglia a stupirli a sorprenderli con i nostri atti di amore di riparazione se uno ci si mette nel segreto senza dirlo a nessuno manca il padre spirituale nessuno in questo non ci deve entrare nessuno è come le stesse in stanza nuziale nessuno deve sapere niente nessuno cosa gli ha maledetto a Gesù cosa gli ha scritto cosa gli ha scritto gli abbiamo scritto qualcosa di bello a Gesù gli innamorati si scambiano le lettere d'amore tu gli avevi scritto le lettere d'amore a Gesù o alla madonna dove ci sia riversato tutto quanto il tuo cuore se ce l'hai tanta roba questo qui quindi lui ha fatto questo pensiero fammi ridare onore a questo coraccio da dam e qua l'ha fatto felice come mi sento raddoppiata la mia felicità capite questo ci fa anche capire il valore degli atti cioè quella lui si potrebbe dire e chi e chi ti ha fatto niente io ho espresso questo pensiero al signore attenzione questo non è un pio pensiero è un atto che produce effetti devastanti in positivo bombe atomiche finora nessuno ci ha pensato a ridarmi questo onore che perdetti non ci ha pensato nessuno e quindi grazie io ringrazio Dio che ti ha fatto uscire alla luce e ringrazio te come figlia a me più cara questo è il capostipio della razza umana quello che sta parlando che hai preso l'impegno di ridare a Dio la gloria come se mai la sua volontà fosse stare da mia offesa e a me il grande onore che il regno del Fiat Supremo fosse ristabilito in mezzo a una generazione capite vuol dire che dal momento in cui Luisa stava facendo queste cose siamo nel 1926 il regno del Fiat Supremo ha cominciato già a ristabilirsi in mezzo alle creature lo puoi vivere anche tu se vuoi da adesso fino al giorno in cui avverrà cioè se l'abbiamo nel Padre Nostro questo è sicuro cioè gli iscritti nella Divina Volontà se uno vi dovesse dire ma che sono cose strane cose strane Fiat Voluntas Tua Sicut in Cielo et in Terra cioè Gesù sono duemila anni che ce l'ha messo in bocca sia fatta la tua volontà si dice questo questo l'abbiamo sempre saputo attenzione bisogna vedere come in terra come in cielo capito dov'è che si vede fatta la Divina Volontà in terra come in cielo solo qui capito questi iscritti sono il Padre nostro non è la rivelazione privata la cosa strana a destra a sinistra certo che hanno lo stile della rivelazione privata ma esplicitano ciò che già sappiamo ti insegnano come è possibile raggiungere questo obiettivo e basta ecco perché dico ma ma te pare che se il Regno di Dio documenti ufficiali della Chiesa ha il suo inizio nella Chiesa Cattolica d'accordo e lì comunque si compirà ma te pare che la Divina Volontà te può portare fuori dalla Chiesa Cattolica ma dico ma come come te fa a venire in mente una cosa del genere come ti viene in mente come ti viene in mente allora è giusto che ti cede il posto che a me toccava come prima creatura uscita dalle mani del nostro creatore insomma Adamo ha ceduto l'onore il posto a Luisa Piccarletta che aveva lui cioè capite ma come non l'avevano già vissuta Gesù e Maria e queste cose certo che l'avevano vissuta Gesù e Maria ma Gesù era Dio fatto uomo in Gesù regno della Divina Volontà sapete no c'è per natura nella Madonna c'è per grazia ma comunque sia la Madonna è immacolata d'accordo ma Luisa no quindi Luisa è il primo cioè germoglio della razza umana decaduta in cui Adamo dice questa è una decaduta è una che colpa mia si è ridotta così guarda che bello finalmente cioè capite quando noi facciamo qualche guaio grosso penso che a tutti sia sia capitato no se poi vediamo in qualche modo questo guaio si sistema almeno un pochetto tutti quanti diciamo mamma mia meno male insomma no perché uno si porta come dire in un peso capito un coccolone sulle dicono a Roma sulle sulle spalle no se riesce a essere alleggerito dicono male insomma no e Gesù qui rincara dice sto fatto vedere quanto è contento Adamo tutto il cielo aspetta i tuoi atti nel mio volere il cielo il cielo il cielo affinché tutti ricevano l'onore che ha tolto loro il loro umano volere perché anche nella santità come dire ordinaria c'è l'umana volontà c'è invece nella santità divina dell'involere è tutto divino e quindi è tutto iperbolicamente nobilitato quando lui si dice dice ma Gesù gli dice guarda che ho messo più grazie in te che in Adamo per fare che il mio volere ti possedesse e con trionfo ti dominasse e che il tuo si sentisse onorato di mai avere vita mai sarebbe un onore immenso immenso questo qui no tanto è vero che si dice ma che stiamo scherzando tu hai mai dato più grazie di Adamo sì sì te l'ho dato perché tu che sei la primogenita su questo non devi sgarrare te lo dico non perché tu ti sento padre eterno in terra mi dice Gesù ma affinché mi corrisponde sia attenta questo è un mondo bellissimo io lo chiamo sempre questo è il mondo delle favole questo si chiama lo chiamano il libro di cielo io lo chiamo il libro delle favole d'accordo ma non in senso dispregiativo perché le favole appunto sono fantasia io lo chiamo il libro delle favole perché se uno lo legge ma dico se se lo chiedi ma stiamo su scherzi a parte o questo è possibile non è possibile capite è una favola vera cioè io non mi stancherò mai di dire adesso poi concludiamo che oggi abbiamo siamo arrivati 57 minuti di catechesi sono pure troppi io ci ho creduto subito ecco subito e ho sempre pensato da subito è vero è così non lo so come mai ma è così è una favola vera vale la pena investirci tempo ed energia io vi assicuro insomma che le mie miserie le conosce soltanto nostro signore ma fatto un primo screening sapendo ovviamente di essere in cammino e non sto dentro queste cose ci sto miseramente provando e zoppicando giorno dopo giorno ma c'è un abisso ma sai che significa un abisso tra come io sto mi sento e vivo oggi e come stavo a mi sentire e vivevo due anni fa non molto tempo di più un abisso un abisso e sono cambiate molto più cose in questi due anni che non nei 45 che mi hanno preceduto questo vi parlo a livello interiore non è che uno chissà che cosa succede quindi e so benissimo di essere ancora lontano anni luce dalla meta dalla meta nel senso di riuscire a abitare bene in questo mondo in questo regno in maniera sciolta spedita costante perseverante senza intermissioni H24 eccetera eccetera però per quel poco insomma che uno ci sia affacciato diciamo così già si vede tanta da quella luce che veramente non occorre altro almeno in questa vita bene ragazzi carissimi grazie per l'attenzione appuntamento per chi lo desidera alla prossima puntata spero adesso che sono finiti i pellegrinaggi insomma periodi estivi di essere costanti quindi di poterci dare tranquillamente appuntamento a martedì prossimo nella divina volontà vi benedico per aiutarvi per difendervi per perdonarvi per liberarvi da ogni male per consolarvi per farvi santi vi benedico dunque nella divina volontà nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo Amen Fiat Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti